Salve amici di Live Betting e lettori di Contrasto TV. Andiamo con la settima giornata del campionato di Serie A. Carpi Torino X2 Sampdoria Inter Udinese Genoa Palermo Roma Juventus Bologna Lazio Frosinone Fiorentina Atalanta Milan Napoli Goal Con 3 euro vinciamo la somma di 148 euro. Andiamo con la proposta di Zenna Carlo. Carpi Torino X2 Sampdoria Inter Sampdoria Inter 1 5 euro vinciamo la somma di 763 euro. Inoltre per restare aggiornati su tutti i nostri pronostici seguitici sul sito www.contrastotv.it Ciao! Alla prossima! Ciao! 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 Ciao!